Pedro Costa-Ferrera, una perla straordinaria, meravigliosa che purtroppo non vi ha portato i tre punti però. Sì, purtroppo non siamo stati bravi a chiudere la partita perché dopo l'1-0 sono creati altri spazi e non siamo stati bravi a sfruttarli, peccato perché abbiamo buttato altri due punti. Già da parecchio tempo che stiamo un po' buttando dei punti, insomma, poi alla fine si pagano. Ma perché succede così spesso, Pedro? Purtroppo è un cammino minato, tra virgolette, con una squadra piena di tecnica, piena di giocatori di esperienza che però non riescono a mettere in ghiaccio quelle gare che poi vivono sempre un po' sul filo del rasoio. Sì, è difficile da spiegare, insomma, se non chiudi le partite sappiamo che poi le altre squadre sono preparate, ci studiano e quindi anche loro hanno dei punti forti e da un calcio punizione, delle palle inattive sono bravi a sfruttarle. Ascoltami, è un campionato equilibrato, lo diciamo da inizio stagione, lo dicono ovviamente anche gli avversari. È un bicchiere a mezzo pieno quello di oggi oppure rimane completamente vuoto perché per l'ennesima volta si va in vantaggio e non si porta a casa il risultato pieno? Sì, penso assolutamente vuoto perché comunque una squadra come la nostra deve riuscire a chiudere. Insomma, abbiamo gente in grado di fare la differenza, gente in grado di fare gol, però non stiamo riuscendo a chiudere queste partite ed è un peccato perché adesso siamo a meno 4, un campionato ancora a lungo, però lutteremo fino alla fine comunque. Il tuo gol l'hai pensato in quel momento, ovviamente vedendo anche la posizione del portiere, avevi tanto spazio davanti ma è stato davvero complicato beccare l'angolino. No, ecco, diciamo che il gol della domenica è anche parecchio fortunato, sono parecchie settimane che ci provo in allamento, però ecco, in allamento è un conto, la partita è un'altra, però ecco, è andata bene anche se poi alla fine è servita a poco. Lo chiedo a te perché ovviamente sei appena uscito dallo spogliatoio, l'umore com'è? Ma insomma, poteva essere più positivo, però ecco, non ci buttiamo giù perché comunque siamo a meno 4, non perdiamo da parecchie partite, siamo lì e daremo un filo da torcere fino alla fine.